Come un fulmine a ciel sereno la notizia del teatro d'annunzio a Pescara chiuso per inagibilità statica ha sorpreso un po' tutti e in particolare l'Associazione Flaiano che da decenni organizza in quel suggestivo scenario i premi internazionali di cinema, televisione, teatro e letteratura. Sorpresa ancora maggiore se si tiene conto che l'Associazione Culturale Ennio Flaiano aveva già sottoscritto per il 2024 con l'ente manifestazione pescheresi il contratto per la serata finale di premazione del 7 luglio è versato anche il 50% della cauzione. Non ho saputo nulla se non dagli organi di stampa, non sono stata contattata ma per il premi Flaiano deve andare sempre tutto bene. Così ho saputo che i premi Flaiano si terranno in piazza Salotto. Ovviamente questa è una decisione che dovrà essere condivisa con il Comune perché capisce bene che c'è un'organizzazione dell'evento del 7 luglio completamente differente rispetto al teatro d'annunzio. Bisogna costruire una platea, bisogna attrezzare un palco, le sedie con le transenne, un piano sicurezza, chiudere Viale Regina Margherita e Viale Regina Elena con i New Jersey per evitare che ci siano eventuali rischi con il transito delle autovetture. Quindi diciamo che ci sono costi che li evitano e che sicuramente non vengono coperti soltanto dal contributo di 50.000 euro lordi, ci tengo a dirlo, del Comune di Pescara. Quindi dobbiamo ripensare la serata finale. Ci sono già i nomi di alcuni ospiti ma ci sono soprattutto anche i contratti che l'associazione Flaiano aveva già sottoscritto con gli sponsor e le informazioni che erano state date anche agli agenti, degli artisti che dovranno venire. Si è parlato tanto dell'ente manifestazione in questi anni, io stessa ho portato all'attenzione alcune di quelle che potrebbero sembrare delle criticità, potrebbe sembrare mancanza di trasparenza, non lo so. Certo è che è una stagione un po' delicata per l'ente manifestazione pescaresi che è un ente importante dal punto di vista culturale, storico per Pescara e nei confronti dei quali anche questa mannaia che si abbatte con la chiusura completa del teatro richiederebbe forse maggiore chiarezza per i cittadini di Pescara e per Pescara stessa che ripeto è legatissima a questo luogo di cultura che negli anni ha visto non soltanto con i primi Freiano, con il Festival Jazz, con Funambolica, veramente passare tanti tanti artisti nazionali, internazionali che hanno reso importante Pescara. Grazie. Grazie. Grazie.